Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. A quarto grado si è riaperto il dibattito sulla strage di Erba, in attesa della decisione dei giudici sulla possibile revisione del processo che ha condannato Olindo Romano e Rosa Bazzi all'ergastolo. Al centro delle nuove prove presentate dalla difesa c'è la testimonianza di Mario Frigerio, l'unico sopravvissuto, resa al comandante Luciano Gallorini mentre era ancora in ospedale. Il perito fonico forense Marco Perino ha esaminato l'audio della conversazione durante la quale Frigerio avrebbe indicato Olindo Romano come l'assassino. Ha spiegato che non è possibile migliorare la qualità dell'audio poiché il volume del parlato e del rumore di fondo sono simili, impedendo di isolare chiaramente le parole del testimone. Le testimonianze di Frigerio disponibili agli inquirenti sono due. Una più chiara, dove non menziona Romano, e una incriminata, dove invece lo accusa. Perino ha ipotizzato che ciò sia dovuto a un errore tecnico, con un registratore presente in uno dei casi che avrebbe potuto migliorare la registrazione. Perino ha espresso rammarico per la scarsa conoscenza della perizia fonica da parte della magistratura italiana, evidenziando il rischio di errori giudiziari derivanti dall'ascolto degli audio da parte di persone non competenti. Ha sottolineato la necessità di un maggiore utilizzo di periti fonici per garantire una giustizia più accurata.